Il movimento rallentato Qui si lavora a carte scoperte Ecco il viaggio segreto che la moneta scomparso dalla palma percorre sul dorso della mano Le dita si muovono, a vederle paiono libere e invece stanno facendo la manovra Questa panoramica di illusioni ci dà un'idea del congresso che ogni anno i prestigiatori olandesi tengono a Dharnail Un catalogo delle novità, un collaudo vicendevole prima del ritorno sui palcoscenici Illusionisti che provano ad illudersi a vicenda Congresso davvero eccezionale Senza applausi perché tutti hanno le mani impegnate in qualche trucco